ciao bello oh buongiorno signora come sta? e come sto? male sto sono pure arrabbiata con lei e come mai? e perchè l'altra volta le pastiglie che mi ha dato erano amare pastiglie? ma guardi signora che quelle erano supposte erano caldarroste no signora le supposte quelle che si infilano nell'ano ma perchè dovrei infilarmi un divano? quelle che si infilano nel culo va bene? no no non ci infilo più niente lì che ho già troppe cose no no ma sta scherzando spero? no no da poco ho infilato un estintore un frigorifero e un giardiniere e credo che il giardiniere voglia pure uscire stai c'è qualcuno